Martedì 4 maggio buongiorno a tutti e ben trovati in diretta anche questa mattina per dare assieme uno sguardo ai quotidiani che troviamo oggi in edicola iniziamo però con le temperature le temperature in queste prime ore del giorno in diverse località del Friuli Venezia Giulia dalla montagna al mare allora subito anche una bella immagine che ci arriva da Forni di Sopra dove in questo momento si segnalano tre gradi e un decimo a Sappada un grado e tre sul monte Zoncolan un decimo di grado sotto lo zero e poi ancora sul monte Lussari due decimi di grado sotto lo zero a Tarvisio un grado e due decimi rimanendo ancora in montagna vediamo sul piancavallo il termometro segna anche lì un grado e due decimi in questo momento e poi invece scendendo verso la pianura a Tolmezzo sette gradi e quattro decimi a Udine sette gradi e tre decimi sette gradi e nove decimi a Pordenone sette gradi e quattro a Gorizia ecco una bella immagine in questo caso che ci arriva dalla zona di Bordano e poi è ancora Cividale sette gradi e sette sette gradi e sei decimi a Cervignano andando sulla costa vediamo a Lignano il termometro segna undici gradi e nove decimi a Grado undici gradi e otto decimi con una temperatura del mare di tredici gradi e quattro e a Trieste infine un grad scusate undici gradi e un decimo il cielo è sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia vediamo anche questa bella immagine da Grado con un mare calmo un mare piatto e il sole che inizia a illuminare anche la zona della città vecchia dunque una bella giornata in queste prime ore del mattino andiamo a vedere come procederà per quanto riguarda appunto il meteo un saluto ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo ci attiene una giornata di martedì nel complesso soleggiata sul Friuli Venezia Giulia non mancheranno infatti ampie schiarite da segnalare solo una maggiore variabilità tra Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno in dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa tra Udine e Pordenone non mancheranno ampie schiarite da segnalare una maggiore nuvolosità solo sui rilievi dove tra pomeriggio e sera non escludo anche isolati piovaschi temperature massime che non supereranno i 20 gradi diamo uno sguardo anche alla situazione attesa tra Gorizia e Trieste quel tempo sarà più stabile con solo il transito di noque velature temperature massime non oltre i 19 e 20 gradi la ventilazione sarà debole con mare calmo localmente poco mosso con questo è tutto dettagli maggiori scaricando l'app di Trevi Meteo Adesso possiamo iniziare a scorrere le prime pagine dei quotidiani nazionali le vedete già alle mie spalle allora andiamo ad aprire subito il Corriere della Sera che in primo piano mette ancora la questione vaccini con l'Italia a due velocità il sud indietro sugli anziani figliuolo dice ipotesi AstraZeneca agli under 60 e poi c'è il decreto sostegni bis in primo piano 14 miliardi a partite IVA e piccole imprese via la prima rata imu e andiamo a leggere anche le prime righe dell'articolo di apertura del Corriere della Sera la campagna per la vaccinazione disegna un'Italia a due velocità il sud non riesce a tenere il passo per quanto riguarda gli anziani in Sicilia appena 7 over 80 su 10 hanno ricevuto la prima dose ci sono oltre 120 mila anziani ancora non coperti in Calabria 50 mila persone in attesa di prima dose in Campania 1 su 4 circa 65 mila anziani il commissario generale figliuolo lancia l'ipotesi di distribuire il vaccino AstraZeneca anche agli under 60 dal decreto sostegni bis arriveranno 14 miliardi a piccole imprese e partite IVA e poi rimanendo nel taglio alto vediamo ancora la foto notizia dei festeggiamenti dei tifosi dell'Inter per lo scudetto con tante persone assembrate in piazza Duomo festa dell'Inter i timori del comitato tecnico scientifico ecco qua non si onorano così i morti scontro Salvini e Sala per quanto riguarda appunto la gestione di questi festeggiamenti andiamo adesso di spalla per una notizia di cronaca una morte sul lavoro una giovane donna di 22 anni Luana 22 anni e un bambino morta sul lavoro in un'azienda tessile di Prato a centro pagina invece una foto notizia che ci porta a parlare un po' di cronaca rosa Melinda e Bill Gates divorzio dopo 27 anni l'annuncio con un comunicato su Twitter finisce dopo 27 anni il matrimonio tra Melinda e Bill Gates il fondatore di Microsoft l'annuncio del divorzio con un comunicato congiunto pubblicato su Twitter continueremo lavorare insieme nella nostra fondazione hanno detto di spalla invece torniamo in Italia e le polemiche che interessano la magistratura Davigo parlò della loggia anche con altri membri del CSM dossier e veleni tra magistrati chiudiamo il Corriere della Sera e vediamo adesso la prima pagina di Repubblica Rai niente riforma prima il cambio dei vertici questo il titolo di apertura il governo rinuncia a nuove regole pur di mandare via giugno salini e FOA domani in vigilanza processo ai dirigenti dopo le accuse di Fedez di censura preventiva blitz della Lega per modificare il DDL ZAN e poi ancora un recovery per le donne così verranno ridotte le discriminazioni anche su Repubblica vediamo di spalla festa scudetto fra due settimane ne pagheremo le conseguenze a centro pagina invece piano di Bruxelles per proteggere le imprese dalle scalate cinesi uno scudo europeo contro i predatori di Pechino dalla prima di Repubblica andiamo adesso sulla stampa pagheremo tutti l'errore di Milano titola la stampa in apertura e sono le eh parole del sottosegretario della salute Pierpaolo Sileri che aggiunge presto eh conteremo i danni riaprire le visite agli anziani nell'RSA dice ancora Sileri e poi figliuolo AstraZeneca agli under eh 60 festa Inter 30.000 in piazza allarme contagi scontro Salvini sala e Locatelli dice così non si onorano i eh morti. Chiudiamo anche la stampa e andiamo a vedere adesso la prima pagina del manifesto Botta di classe titola il manifesto in eh apertura esplodono le diseguaglianze prima del covid in cinquecentomila possedevano il ventidue per cento della ricchezza e venticinque milioni avevano subito il calo più forte del reddito dagli anni novanta oggi ci sono già un milione di poveri e novecentocinquantamila senza lavoro in più. Il recovery parla di settecentocinquantamila posti nel duemila ventisei. Questa è l'analisi del eh manifesto. Cambiamo quotidiano e andiamo adesso sulla prima pagina del fatto quotidiano che apre invece con una notizia diversa. Beccato lo spione scrive il fatto quotidiano. Armi di distrazione pur di non parlare di Emancini Renziani evocano Casalino e inventano eh fatture. Interrogazioni e eh calunnie da eh Italia eh viva. E qui vediamo appunto l'apertura di del fatto quotidiano. Adesso chiudiamo per andare a dare uno sguardo a nord-est al gazzettino. Ecco qua la prima pagina e il titolo di apertura. Vaccini la fuga dei sessantenni scrive il gazzettino. Poche prenotazioni forse per paura del siero. La regione dice fateli altrimenti si passa ai eh cinquantenni. Resta confermata l'impossibilità di scegliere il marchio eh Johnson & Johnson previsto solo per gli eh over eh sessanta. E questo. Questa è l'apertura del eh gazzettino. Vediamo ancora poi a centropagina questa fotonotizia che ci mostra la chiesa di San Martino in bilico. Il vescovo silenzia anche le campane. San Martino vibrazioni eh pericolose. Eh questa eh chiesa che come vediamo è in eh in bilico su un mh su uno strapiombo. La cronaca nel tratto maledetto della quattro tre incidenti fra tiri in dodici ore. Caos eh nell'imbuto tra San Stino e Portogruaro. Autostrada chiusa tre volte nella giornata di eh ieri. E poi eh il processo per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, medico sportivo condannato a un anno. È stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo il medico che ne ha certificato l'idoneità eh sportiva. E qui vediamo ancora poi eh tutta la prima pagina eh del eh gazzettino del Friuli del gazzettino del nord est su quale poi appunto torneremo per dare un'occhiata assieme alle pagine del eh Friuli. Ancora sempre quotidiani nazionali e rimanendo a nord est rimanendo in Veneto andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere del Veneto. Qui siamo sull'edizione di Venezia e Mestre. Seconda ondata inchiesta in regione. Si alza allo scontro politico. Le minoranze irrompono nella sede della protezione civile. Da test rapidi agli asintomatici chiedono una verifica istituzionale. Subito una commissione. Ok. È di Ezaia Crisanti. Lettera di 40 scienziati. Libertà sotto eh attacco dice il professor eh Crisanti. A centro pagina i controlli anti covid negli ultimi giorni. I locali la pioggia e le prime multe. Padova un caso la lettera dei eh ristoratori al eh prefetto. E poi vediamo a Bassano eh De Orsa Follati. L'ex primario chiama il centotredici e dice è eh pericoloso. Chiudiamo anche il Corriere del Veneto. Rimanendo sui eh quotidiani nazionali vediamo adesso anche la prima pagina del giornale. Indagati IPM di Milano e rischia anche Davigo titola il giornale. Giustiziopoli aperto un fascicolo sulla fuga di notizie. L'ex leader dell'Associazione Nazionale Magistrati potrebbe essere sentito e il CSM non gli risparmia eh critiche. E poi vediamo ancora chiuse le indagini sul figlio di Grillo. Verbali eh shock. Ancora dal giornale andiamo eh sulla eh verità e vediamo il verbale che fa tremare politici, giudici e il colle, la deposizione di Amara, l'avvocato dei veleni, la loggia Ungheria, casa di un magistrato dove si decidevano le carriere, la lista di quaranta nomi, le smettite degli interessati raggiunti dalla verità, intanto il CSM scarica Davigo con quel dossier ha eh sbagliato. Ancora andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di è libero, omosessuali alla riscossa titola libero, ormai sono i protagonisti della scena, hanno ogni anno appena 35 segnalazioni di crimini o discorsi d'odio legati all'orientamento sessuale, per i progressisti tuttavia la violenza di genere è un'emergenza, così domina l'ideologia gender. E poi il PD sfrutta la polemica su Fedez per piazzare i suoi uomini in Rai. Ancora sempre i quotidiani nazionali e dalla prima di libero andiamo adesso sulla prima pagina del Sole 24 Ore, andiamo a vedere anche un quotidiano economico finanziario in questa prima parte di di rassegna, fondo perduto aiuti per quattordici miliardi. Moratoria dei prestiti, proroga con eh limiti. Ecco qua l'apertura del Sole 24 Ore, eh si parla appunto del decreto legge sostegni BIS, BIS nella bozza i eh supporti alle imprese estesi al duemilaventuno. E poi c'è la spinta eh all'ace più incentivi alle aziende che aumentano il capitale. Detto alla eh compensazione a tre milioni recupero IVA non riscossa per eh fallimento. E poi vediamo invece a centro pagina food e arredo rilanciano l'export commercio mondiale in eh ripresa più sette virgola sei per cento secondo gli ultimi eh dati e vediamo che in Germania c'è una ripresa, un risveglio dei consumi a marzo vendite al dettaglio del sette virgola sette per cento, in aumento del sette virgola sette per cento. Ancora andiamo anche sulla gazzetta dello sport e vediamo in primo piano ancora l'Inter, lo scudetto di eh Lukaku, scrive la gazzetta dello sport, io sono il eh re, il titolo. Conte al rialzo, via alla missione, seconda stella, chiede tre colpi e un eh portiere. E questa è l'apertura della gazzetta dello sport, poi vediamo eh di spalla, torna Sarri, sempre più eh Roma, la Rosa gli piace già, ma bastano tre quattro rinforzi. Brivido CR7 Gigio, destini incrociati domenica in Juve Milan senza il posto in Champions sarà. Addio, scrive la gazzetta. Nel taglio basso, vediamo il posticipo di campionato che eh ha visto la vittoria del Torino, la sconfitta del Parma che eh scende in serie B, il Toro scatta avanti, il Parma in B. Questo l'altro verdetto dell'ultima giornata della trenta, dell'ultima partita della trentaquattresima giornata di eh campionato. E poi nel taglio alto vediamo anche qui la notizia eh sul il sulla morte di Astori, condannato il medico, il PM ha detto si poteva eh salvare. E poi oggi la presentazione del giro, Nibali ci sarà, ho vinto la mia crono, sabato da Torino parte la Corsa Rosa, oggi a Gorizia ci sarà la presentazione delle tappe eh della tappa di Gorizia, in particolare della Corsa eh rosa che ovviamente seguiremo in eh diretta. Ma adesso eh chiudiamo le pagine dei quotidiani eh nazionali, torneremo poi anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport e eh andiamo a spostare la nostra attenzione sui quotidiani locali, Gazzettino, Piccolo, Messaggero Veneto. Allora vediamo subito il Gazzettino, il dorso del Friuli del Gazzettino con eh il titolo eh a centropagina dedicato ai vaccini. Partono i vaccini in ambulatorio ma a Udine dottori in rivolta per la campagna alla fiera. Serve la eh chiarezza, serve chiarezza alla regione, corregge i dati eh sull'adesione. Allora andiamo a leggere le prime righe dell'articolo di apertura del Gazzettino. Partono anche in provincia di Udine le vaccinazioni negli ambulatori dei medici di base da cui molti si aspettano un cambio di passo nell'andamento della campagna. A quasi un mese esatto di distanza dal debutto nel Pordenonese, giovedì dovrebbe decollare la somministrazione negli studi o nei mini hub da Gonarsa Aruda della bassa friulana. Nel distretto di Udine invece non sono mancate le proteste dei dottori di famiglia per la richiesta da un giorno all'altro di una lista di medici per immunizzare nel nuovo polo ad hoc allestito all'ente fiera e per la scelta dell'orario mattutino di norma dedicato alle visite in ambulatorio. Intanto ieri la regione con l'assessore Riccardi all'incontro con le sigle dei medici di base ha corretto le cifre fornite solo qualche giorno fa dopo le proteste dei sindacalisti che avevano contestato quei dati distinguendo fra adesione e partecipazione. E poi ancora a proposito di medici e sindacati vediamo compensi ridotti pronto un ricorso per i sei medici USCA, i medici delle unità sanitarie che visitano i pazienti, Covid a domicilio, sotto la lente è un tema molto tecnico che riguarda il trattamento economico, abbiamo in ballo una causa pilota che riguarda sei nostri iscritti della provincia di Udine, siamo pronti a presentare il ricorso al giudice del lavoro a maggio dice il presidente dello SNAMI. Ancora rimaniamo a centro pagina e vediamo un'altra notizia che riguarda la donata degli alpini che slitta ancora, la donata alpina slitta il 2023, l'appuntamento si sposta ancora e poi vediamo di spalla mortalità il triste primato della regione, mille morti in più, un incremento di decessi del 24% in Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre dell'anno rispetto alla media dello stesso periodo tra il 2015 e il 2019, un dato che porta la regione ad ottenere il triste primato in Italia per l'eccesso di mortalità. Ancora sempre sul gazzettino nel taglio alto vediamo ancora in primo piano la morte del giovane investito nella serata di sabato a Udine, fiori sul banco per l'addio al sedicenne Riccardo. Il messaggio del padre sui social niente sarà come prima e poi ieri vediamo raffica di incidenti stradali anche ieri da Premariacco a Varmo. Vediamo nel taglio alto si parla di raccolta differenziata al Friuli Venezia Giulia sul podio nazionale grazie ai risultati sulla raccolta differenziata nei piccoli comuni e poi un'anticipazione delle notizie che troviamo nelle pagine della cultura degli spettacoli, le stelle del jazz illuminano l'estate musicale di grado e per il gran finale c'è Paolo Conte. Ma andiamo anche nel taglio basso dove troviamo altre notizie a cominciare dal da Lignano, effetto ferragosto al primo ponte, a Lignano tutto è pronto per il via alla stagione estiva, ci sono però ancora parecchie incognite ma soprattutto speranze che tutto possa sbloccarsi entro il 15 maggio. È il primo ponte turistico, la località balneare friulana è stata presa d'assalto con lunghe file fuori dai locali e tanti mezzi parcheggiati come a Ferragosto. Si parla del rilancio del manifatturiero in un progetto che è stato messo a punto anche per l'utilizzo dei fondi europei lanciando Udine 2050 Friuli Europa come progetto di rinascita e sviluppo strategico. Se ne è parlato ieri in comune durante un incontro con i parlamentari e gli europarlamentari eletti in regione. Poi matrimoni, le proposte sul tavolo di Roma, le proposte di confartigianato e confcommercio per quanto riguarda le filiere del wedding e degli eventi messi a dura prova dal lungo stop imposto dalle normative anti-covid. Ad Amaro GLS si accasa nello stabilimento lasciato dalla Larice Carni nel 2019. Questa è la prima pagina del Gazzettino del Friuli sulla quale ritorneremo più tardi per dare un'occhiata anche alle pagine sportive. Adesso andiamo a vedere la prima pagina del piccolo, qui siamo sull'edizione di Gorizia e vediamo in apertura la regione che fissa 13 condizioni alla centrale A2A. Questa è l'edizione di Gorizia e Monfalcone. Si parla appunto della centrale che si trova nella città dei cantieri. Compatibilità ambientale subordinata al rispetto delle indicazioni. Decisa l'istituzione di un tavolo con tutte le parti. E poi vediamo questa curiosità che ci arriva da Gorizia dove è stato cucito uno lo scudetto dell'Inter con 2850 bottoni e questo è il risultato. Il messaggero Veneto adesso andiamo a vedere anche qui i titoli di apertura. Cominciamo con l'edizione di Udine e vediamo la donata alpina Udine slitta al maggio del 2023. Rimandato l'evento in programma a Rimini che si terrà il prossimo anno e di conseguenza anche quello udinese, la decisione dei vertici dell'ANA. Il presidente della sezione di Udine dice scelta giusta a tutela della salute di tutti. Una decisione giusta, intelligente, fermarci, riprendere, fermarci e riprendere di nuovo comincia a diventare pesante ma prima di tutto c'è la salute. Aspetteremo un altro anno e continueremo a lavorare, afferma il presidente della sezione ANA di Udine Dante Soravito De Franceschi che era stato informato che la donata avrebbe potuto subire un ulteriore slittamento nei prossimi mesi. Ad ogni modo la sezione intende celebrare il centenario che nei giorni della donata sarà 100 più 2. E poi a centropagina anche qui vediamo una foto delle spiagge, le spiagge di Grado e Lignano che si preparano alla stagione balneare, conto alla rovescia per la stagione balneare nella Rivera Friulano è partito il conto alla rovescia, sabato 15 maggio sia Lignano sia Grado inizierà ufficialmente, sebbene senza cerimonie, la stagione balneare 2021. Tutti gli uffici spiaggia come anche la gran parte dei locali apriranno insieme nella stessa giornata. La sabbia estesa, i picchetti sono in posizione. Ancora rimanendo sempre sulla prima pagina del Messaggero Veneto, vediamo di spalla l'effetto Covid nei numeri rilevati dall'Istat, si vive meno, calano le nascite, decessi più 16%. E poi il punto sulla campagna di vaccinazione, oltre 95 mila dosi in sei giorni ma pesano le basse adesioni, tanti rifiutano AstraZeneca. E poi l'andamento della pandemia, tutti gli indicatori sono in discesa, siamo tornati ai livelli di ottobre, spiega il professor Vincenzo della MEA che analizza i dati. Vediamo di spalla i premi ai medici e agli infermieri da 260 a 789 euro. E poi la raccolta differenziata con il Friuli Venezia Giulia che si piazza al quinto posto, bene i paesi meno le città. A Tolmezzo l'azienda cartotecnica Pigna perde l'appalto delle poste, posti di lavoro a rischio. E ancora contributi non dovuti, pagherà alla regione 636 mila euro, un'azienda che aveva ricevuto appunto dalla regione dei contributi per l'avvio di alcuni progetti innovativi, contributi che poi sono stati giudicati appunto non dovuti. Anche qui la cronaca con un mazzo di fiori sul banco vuoto del giovane travolto e ucciso sulle strisce a Udine nella serata di sabato. Andiamo nel taglio alto dove si parla della settimana della cultura friulana, dal sisma ai fusilà, 80 eventi in programma e poi la storica mostra di Leggio che quest'anno si intitola Cambiare, da Tintoretto a Monet a Picasso a Leggio comincia a cambiare. La mostra curata da Don Alessio Geretti che anche quest'anno porterà a Leggio delle opere davvero importanti, alcune esposte per la prima volta. Andiamo sulle pagine interne del messaggero Veneto, andiamo a vedere la prima pagina del fascicolo di Udine e provincia dove troviamo le ultime notizie legate all'epidemia di coronavirus in primo piano, crollano i contagi, scrive il messaggero e poi vediamo anche i dati della mortalità nell'ultimo anno in città in un anno 385 vittime. E poi vediamo a centropagina l'accordo per i premi ai lavoratori della sanità da 260 a 789 euro trovato l'accordo per i premi covid a medici e infermieri. Le risorse dovranno essere suddivise tra oltre 1600 dipendenti. I bonus vaniano in base al lavoro svolto a novembre e a dicembre. E poi vediamo ancora l'azienda sanitaria friulana è l'unica ad aver previsto un bonus seconda ondata. Dalle pagine del messaggero Veneto di Udine adesso andiamo su quelle dell'edizione di Pordenone e vediamo anche qui le notizie in primo piano in apertura anche qui vediamo la donata degli alpini che slitta al duemilaventitré allora andiamo di spalla dove troviamo le altre notizie che riguardano appunto la destra tagliamento rinasce la strada che è stata il tempio delle concessionarie e poi San Giorgio vivaista ucciso dal covid un mese dopo il padre. Nuovo sequestro al tutore sottratti i soldi all'assistita protagonista di questa vicenda un avvocato rette non pagate alla casa di riposo causa a una famiglia. E andiamo a vedere anche qui la prima pagina del fascicolo di Pordenone nel eh taglio alto obiettivo sicurezza le telecamere saranno messe in rete a buon punto l'indagine sul eh vandalismo mentre appunto si eh cerca di mettere in rete le eh telecamere che monitorano le varie zone della città di eh Pordenone una rete di un centinaio di telecamere controllate con la centrale operativa del comando della polizia locale sorveglia quanto avviene in città ma nonostante si tratti di una presenza diffusa talvolta non basta a coprire tutto così in via eh Mazzini dove la notte del primo maggio è stato fatto un vandalismo un automobile la telecamera più vicina in piazza Cavour mentre un'altra ventina di occhi elettronici si trovano in autostazione delle eh Corriere. La rete però è composta da tante telecamere che non sono inserite nel circuito e eh man mano abbiamo l'obiettivo di mettere in rete ha spiegato l'assessore alla sicurezza Loperfido per rendere più agevole il reperimento delle immagini. E poi si parla di opere pubbliche ex fiera e aula magna del centro studenti sì alla rigenerazione nasce il Polo Young ridisegnato il piano triennale per intercettare nuovi fondi nuovi parcheggi e un percorso acrobatico al San Valentino. Ventiquattro milioni di euro l'investimento eh complessivo previsto dal eh comune per il Polo eh Young e vediamo la riqualificazione dell'ex fiera il parcheggio sotterraneo in piazza del Popolo un nuovo padiglione al centro studi il parcheggio in via San Quirino la Rampi Park in una porzione del parco San Valentino e poi la ciclabile in via eh Matteotti nel triennale anche grandi pannelli per proiezioni in piazza della eh Motta. Chiudiamo questa pagina del messaggero veneto di Pordenone e eh rimanendo a su questo quotidiano e iniziamo la nostra rassegna stampa sportiva allora andiamo a vedere l'apertura del fascicolo sportivo del messaggero veneto cioè l'udinese in primo piano e eh ci sono una serie di analisi delle occasioni perse dai bianconeri in questa stagione il titolo udinese quante grandi occasioni perse in volata punti lasciati a Milan e Napoli con pochi minuti da giocare e mancato il salto di qualità già prima del finale con la eh Juve. Sette i punti persi dopo il minuto numero ottantatré in quattro gare giocate con le eh Big e vediamo appunto Udinese Milan, Udinese Napoli, Milan Udinese e poi eh Juventus eh Udinese e ci sono le parole eh di ehm di Michele che dice eh ex bianconero che dice un peccato questa sconfitta sono partite che fanno crescere di Michele ricorda la gara della svolta per l'udinese della prima eh Champions e poi appunto abbiamo eh tutto eh l'articolo anche sul eh sui quotidiani locali vediamo eh di spalla la notizia eh della condanna eh per il medico che rilasciò il certificato di idoneità sportiva a ehm ad Astori che come lo ricordiamo morì proprio mentre era in ritiro con la Fiorentina Udine in vista della di una gara di campionato la morte di Astori a Udine un anno al medico che diede l'idoneità eh sportiva. Chiudiamo questa pagina del eh messaggero Veneto e eh adesso eh rimanendo su questo eh quotidiano poi torneremo a parlare di Udinese quando torneremo anche sulle pagine del eh gazzettino apriamo una parentesi dedicata al basket alla eh GSA eh con la vittoria eh di ieri e Giuri e Johnson prendono per mano l'Old Wild West battuta scafati con un gran finale in difesa e in attacco con i due bomber vendicato il eh K.O. di Napoli domenica sera c'è la partitissima contro eh Forlì è finita 88 a 83 ieri sera per l'Old Wild Old Wild West e eh vediamo le parole di Boniccioli è un coach felice scrive il messaggero sei veterani fanno eh 40 punti il coach Loda la difesa del quarto quarto e Antonutti ha parlato di un match da eh play off e vediamo anche qui le eh le pagelle con eh Giuri il migliore otto per lui Marco Play in serata di gala Antonutti c'è quando serve sette anche per eh Antonutti per Johnson sei per Amato sei e mezzo De Angeli cinque e mezzo Mobio e Fulland sei nobile sei e mezzo pellegrino cinque e mezzo eh italiano e poi c'è tutto il racconto della gara di eh ieri eh sera ma adesso chiudiamo il messaggero Veneto torniamo a parlare di eh Udinese andando sul gazzettino tornando sul eh gazzettino e vediamo anche qui l'apertura eh del fascicolo sportivo tre errori e un'atroce beffa rabbia da sfogare su eh Bologna tengono ancora a banco le polemiche legate all'arbitraggio di Chiffi e ai condizionamenti la buona notizia è che non ci sono altri infortuni intanto Machengo scalpita per un posto in eh mediana è la stagione dei rimpianti ed è pure quella delle beffe perché non si può definire altrimenti l'incredibile sconfitta subita dall'Udinese contro una Juventus dominata o quasi per ottantatre minuti che ha rischiato più volte il definitivo K.O. e che poi non si sa come in realtà si sa non solo ha pareggiato ma addirittura ha acquisito i tre eh punti ovviamente Pirlo e i suoi uomini a fine gara hanno risultato come ragazzini mentre l'epilogo del match per l'epilogo del match mentre gli udinesi avevano un diavolo per capello perché mentre si accingevano a salire in paradiso si sono ritrovati all'inferno l'arbitro Chiffi è eh sotto eh accusa scrive il eh gazzettino che poi appunto eh prosegue analizzando ehm gli errori eh arbitrali e guardando anche alla prossima eh sfida contro il eh Bologna sabato alle eh quindici nel taglio basso vediamo eh questo articolo dedicato a Bram Noiting che oggi eh festeggia trentun anni Birambo Noiting al traguardo delle cento eh gare intanto oggi il difensore danese festeggia i eh trentun anni andiamo anche nella pagina successiva dove troviamo il consueto articolo del martedì di Fulvio eh Collovati e che eh scrive il decimo posto resta un obiettivo possibile contro la Juve c'è stato un ottimo approccio ma due distrazioni hanno vanificato eh tutto dice eh Collovati che poi appunto analizza eh la gara eh di eh domenica e eh poi anche in questo caso si guarda al al futuro al gran finale occasione sprecata per l'Udinese contro una Juventus spenta e dimessa capace però incredibilmente di ribaltare un risultato che la vedeva soccombere fino a una manciata di minuti dal termine dell'incontro la squadra di Gotti ha gettato alle urtiche una vittoria ampiamente meritata proprio quando ormai pensava di averla già acquisita episodi sfavorevoli a parte qui entra in gioco il metro di giudizio secondo me errato da parte dell'arbitro Chiffi nel concedere con troppa superficialità una punizione fuori area a Cristiano Ronaldo è però anche vero che i bianconeri fiulani devono interrogarsi sugli errori commessi e sui cali di concentrazione nelle fasi finali di gara motivo dominante in questa stagione e costato parecchi eh punti incomprensibile come depola allarghi il braccio sul tiro di cr7 come altrettanto inconcepibile l'ennesimo errore da parte della difesa schierata sul eh cross lento e lungo di Rabiot sul secondo palo per non parlare del fatto che lo stesso Rabiot è partito dalla sua metà campo e ha avuto troppa facilità nel raggiungere il punto da dove ha scodellato in mezzo il pallone risultato decisivo la distrazione di Samir e l'indecisione di Scuffette sono state fatali poi non deve sfuggire all'analisi del tecnico e dei suoi collaboratori il fatto che l'udinese abbia subito cinque rigori nelle ultime cinque partite eh giocate il calendario adesso offre ai bianconeri le visite di Bologna e Sampdoria che sono squadre appagate servirebbero sei eh punti dice eh collovati e poi eh vediamo la versione di carnevale chi prenderà De Paul farà un affare e poi ancora Musso è come Andanovic. Chiudiamo le pagine eh del eh gazzettino e ehm prima di passare sulla gazzetta dello sport anzi per leggere anche l'articolo della gazzetta dedicato all'udinese facciamo un passaggio anche sul eh Pordenone ehm che ehm sarà eh in campo eh oggi a Lignano nero verdi obiettivo vittoria battere la Salernitana oggi a Lignano significherebbe fare un passo avanti decisivo sulla strada della salvezza. Anche finotto tra i convocati l'avviso di eh mister Domizzi dobbiamo pensare soltanto a noi i precedenti eh favorevoli Maurizio Domizzi ha finora raccolto sette punti nelle tre gare interne anche una tradizione personale favorevole contro i Granata eh Campani. La sfida con la Salernitana in programma oggi alle quattordici al Teghil di Lignano è una sfida che può decidere il futuro di eh entrambe eh le squadre scrive il eh gazzettino. E adesso eh chiudiamo questo quotidiano e torniamo sulla gazzetta dello sport andiamo a vedere anche qui la pagina dedicata all'udinese eh c'è Wallace in primo piano il duro di Udine così lo descrive la gazzetta dello sport Wallace brasiliano atipico io tutto grinta e corsa il centrocampista ha detto in Italia sono cresciuto molto il futuro qui mi trovo bene mi eh piacerebbe rimanere ha detto il eh giocatore che ha solo ventisei anni e scrive Nicola Angeli nell'attacco del suo eh articolo ma la maturità è eh grande è diventato padre a ventun anni se ne è andato di casa a quattordici per coltivare il suo sogno di diventare calciatore non farle e non far più eh ritorno non ha però dimenticato mai le sue eh origini e questo è l'articolo principale della gazzetta dello sport eh di oggi ovviamente della pagina dedicata all'udinese di spalla vediamo bianconeri top in A nei rigori contro e ben cinque di fila la squadra di Gotti ne ha subiti finora undici frutto di eh troppe ingenuità. Chiudiamo questa pagina della gazzetta dello sport ma rimanendo sui quotidiani sportivi nazionali come sempre prima di salutarci andiamo a vedere anche le prime pagine di Corriere dello sport e eh tutto sport eccole qua allora la gazzetta l'abbiamo già vista mettiamo tutto sport e Corriere dello sport un accanto all'altra e vediamo tutto sport eh nel taglio alto inter boom eh scudetto la rosa nera azzurra ora vale duecento milioni in eh più e poi a centropagina invece eh Juventus e eh Torino con la panchina eh della Juve la corsa per la panchina tre per la Juve il futuro della panchina bianconera è sempre più un intrigo anche il Real su Allegri una mossa che può liberare Zidane Pirlo e il quarto posto non eh basta. Per il Torino tre punti toro eh scrive il tutto sport vittoria importantissima per il eh Torino che manda il Parma in eh serie B e con tre punti stacca in classifica il eh Benevento. Oggi è giornata di Champions City Paris Saint Germain in programma Pep dice ripetiamo eh Parigi. E poi ancora andiamo anche sulla prima del Corriere dello Sport appello a Conte il giorno dopo la conquista dello scudetto tiene banco il futuro del tecnico Marotta e l'incognita della crisi spero che Antonio resti all'Inter dice Marotta e poi a centropagine invece la volata Champions il segno dei bomber eh da Atalanta eh Lazio Juventus Napoli Milan da Immobile e CR7 a Osimene Muri elecco i protagonisti della corsa per eh imposto in Champions nel taglio alto Fonseca alle strette non mi dimetto confronto a Trigoria dopo il eh crollo e anche sul Corriere della Sera un anno al medico omicidio colposo eh Galanti va in appello per quanto riguarda la morte di Astori e poi vediamo la Champions City Paris Saint Germain nella eh rivincita Pep riparte dal due a uno in ballo in ballo c'è la eh finale. E noi siamo arrivati alla fine di questa nostra rassegna stampa di oggi come sempre prima di salutarci diamo un'occhiata anche alla nostra programmazione ai eh agli appuntamenti di questo martedì eh sul nostro eh canale ci rivediamo come ogni giorno alle dieci con la prima edizione del nostro OTG e poi l'informazione in diretta anche alle dodici alle sedici alle diciannove e alle venti due e trenta alle quindici l'appuntamento con pomeriggio calcio e poi alle diciassette e quindici calcio duemilaventi duemilaventuno Udinese Juventus e alle ventuno eh come ogni eh martedì l'appuntamento è con basket a eh nord-est. È davvero tutto ci fermiamo qui per il momento grazie per la vostra attenzione e buona giornata a tutti. Grazie. 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 Grazie.